A papà Francesco che dal cielo è qui accanto a te, ha avuto il permesso oggi in modo particolare dal Signore per scendere e stare accanto. Lui era il papà grande che ti ha cresciuto e il 22-3 del 2003 ha detto guarda voglio essere il tuo angelo custode. E qui si trova accanto, mentre accanto a te Ilari c'è il papà Franco che insieme a Maria hanno festeggiato 31 anni di matrimonio. Giovanissimi siete come voi, comunque avete superato il 25esimo anno. Gli facciamo un applauso anche ai genitori. Grazie mille. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi è un uomo allegro, un ragazzo allegro, ti fa soddividere sempre, ti dà tanta serenità e tu quando stai con lei sei gioiosa, i tuoi occhi si aprono, si spalancano perché hai trovato colui il cui cuore grande ti fa proprio inebriare di quelle dolcezze che solo il mondo riserva a coloro che si amano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.